Buonasera a tutti, intanto come va? Siete caldi? Siete pronti? Sì! Non ho sentito, non ho sentito, proviamo a capire tanto questa parte di quale siete caldi? Sì! Vediamo se il signore dice forse sono due quali, proviamo, attenzione, da questa parte siete caldi? Sì! Andatevi risentire insieme, tre, due, uno, siete pronti? Sì! E allora signori e signore, ladies and gentlemen, un grande applauso per Francesco Giordano! In questa 61esima edizione della Mossa della Ceramica, anche divertimento e comicità? Sì! Diciamo che tra le varie programmazioni si è pensato un po' a tutti e anche ai bambini e col Circo Now, wow! In questi anni abbiamo collaborato più e più volte, perciò questa sera con Francesco Giordano avremo di nuovo una serata di divertimento e di intrattenimento, sia per i più piccoli che per i visitatori della 61esima Mostra della Ceramica! Sono veramente tanti gli eventi collaterali di questa edizione, per tutti i gusti? Sì! Abbiamo cercato di poter soddisfare le esigenze di ognuno di noi, dalla serata della cena dei tre re, quella serata in piazza, alla giornata per esempio di domani per la corsa con Caminarte, stasera con questa serata molto più leggera e da condividere con i bambini, sicuramente sarà molto divertente e speriamo che siamo riusciti a soddisfare le esigenze di tutti i cittadini di Castellamonte! Oltre alla bella esposizione che ha tirato molta gente! Quest'anno sì, veramente! Devo dire che gli apprezzamenti su quello che è la mostra di quest'anno sono arrivati da tutte le parti, è piaciuto, è piaciuto soprattutto quest'arte rigenerata, molto più innovativa, questa ricerca del bello, devo dire che i fischietti hanno avuto un enorme successo, io devo essere sincera ho fatto un po' di punti espositivi in queste settimane e in ogni posto ho avuto pareri molto favorevoli e questo ci fa molto piacere anche perché gli sforzi sono tanti e se riusciamo anche ad ottenere questi risultati non può che non farci piacere!